Cocconi. Benvenuta. Grazie per essere qui. Benvenuti. A raccontarci una di quelle storie, il nostro sorriso è perché in studio c'è anche la piccola bimba, la sua piccola bimba, e quindi come l'ha vista è giustamente la chiamata rincontrandola. E una di quelle storie che sono vere ma si fa ancora fatica a immaginare che si possa essere davvero vendute, che tu possa non disporre più della tua vita, del tuo corpo, di tutto quello che vuoi o non vuoi fare. Intanto, quando arriva in Italia? Sono arrivata in Italia nel 1999 direttamente a Torino. Passato in viaggio di Londra e poi da Londra siamo trasferite in barca con la macchina, arriviamo in Francia e poi in Francia arriviamo a Torino con la macchina. questo è il viaggio un viaggio che parte dalla Nigeria Sì. Da dove? Dal io sono di Acquai Boomstead e poi sono entrata in Benin City dopo Benin City a Lagos. Quanti anni aveva quando è partita? Nel 99? 99. Quanti anni aveva? Io ero circa 24-25 anni. E parte dalla Nigeria con quale prospettiva? Cioè va via da casa lascia quello che aveva perché cosa pensava di trovare qui in Italia? L'ho lasciato tutto a casa ho venduto anche il mio ristorante perché questa donna di Benin City mi propongo di arrivare in Italia promesso che quando sono qua in Italia che si troverà meglio se io lavoro in ristorante circa sei mesi posso avere tanti soldi pago anche debito che loro mi hanno emesso di pagare circa 45 mila euro in sei mesi così io ho scelto questo perché ho pensato se io faccio cuoca in Italia è meglio stare in Nigeria perché è difficile in Nigeria la vita in Nigeria è difficile mi prospettano la possibilità di continuare a fare quello che so fare il mio lavoro la cuoca in un paese dove sicuramente starò meglio sicuramente avrò una possibilità economica diversa questo comporta un debito devi pagare perché tu possa arrivare fino in Italia e sono 40 mila euro questo debito un debito che poi dopo tutto questo percorso che poi la porta in Italia viene ripagato e deve essere ripagato come? Quando sono arrivata a Torino in questo momento ho saputo che questo debito non è quello che ho pensato io perché ci sono questo grande gruppo di trafficanti che portano le ragazze in Italia e poi vendono queste ragazze ancora per altre donne che sono anche loro sono vittime delle tratta prima hanno finito di pagare il loro debito e poi hanno cominciato ad entrare dentro questo gruppo di business delle nigeriane e comprano queste ragazze circa 13 mila euro e poi quando sono arrivata questo mi ha spiegato che arriva la mia madame che io devo seguire lei devo obbedire lei che devo lavorare bene per pagare questi soldi in questo momento madame ho detto che io devo pagare 45 mila euro infatti non ho saputo prima quando sono andata a casa con lei dopo un giorno che mi ha portato a fare capelli cambiare abiti cambiare tutto modalità di vestire mi ha spiegato che io devo andare a lavorare con altre ragazze che questo lavoro è prostituzione infatti io ero molto paura ho parlato con lei e spiegato che io sono venuta in Italia per fare cuoca invece non ha possibilità in quel momento di dire no perché loro hanno tanti un gruppo di persone indietro che se tu non lavori non fai come dicono loro magari questa persona si ammazza o si farà male tua famiglia in Nigeria così devi andare a fare questa attività primo giorno ho molto ho molto paura molto distruggere dicendo perché una cosa brutta per me era una ragazza che abitava in chiesa che lavora in chiesa per tanti anni che aiutava loro tante persone malate in chiesa ma per arrivare in Italia una città strana per me e poi cominciare a diventare prostituta una cosa come sciocca per me piangeva e poi nascondere alcuni posti ma quando sono arrivata a casa dove prendere tante botte dove prendere tante ma la parola di questa donna dice se tu non vuoi fare questo lavoro devi pagarmi i soldi prima perché prima che è partito io ho fatto rivuto di voodoo ho giurato per pagare questi soldi prima sore Eugiene diceva non avevano scelta non avevano scelto non avevano scelta è inimmaginabile solo ed è anche difficile solo provare a mettersi nei panni di una persona che si ritrova a essere costretta a vivere una vita che non ha scelto e non ha la scelta per poter fare nient'altro è veramente inimmaginabile e poi ci sono questi riti i riti voodoo che cos'è un rito voodoo? Il rito voodoo vuol dire giuramento in Binin City quando tutte queste ragazze vogliono arrivare in Italia allora si fa paura ci porta uno giugiuman uno che è in villaggio che ha tante cose di paura magari una scheletta delle persone una cosa strana e poi spiego che se tu non paghi debito quando arrivi in Italia che questo voodoo si mazza si mazza anche la tua famiglia per paventare ragazze infatti per fare paura che tu quando arrivi qui anche se non sapere prima in Nigeria cosa deve fare quando arrivi qui è già giurato deve pagare questi soldi ormai il voodoo per noi che credenti di Dio non funziona non esiste solo che queste ragazze molto paura sempre di voodoo quindi c'è è la paura che regna e che domina qualsiasi cosa con la paura ti faccio partire ti obbligo a rispettare un patto un giuramento anche qua quando arrivate qua loro si prendono il tuo sangue si tagliano le unghie tutte le unghie si prendono anche la tua mutandina con il sangue e poi mandano loro a famiglia se tu non paghi tutte queste le tue cose loro usano per fare voodoo per fare male ragazze questo prendersi molto paura di più ragazze questo prendersi il sangue non è solo simbolico perché ti tolgono veramente la vita e la linfa che ti scorre dentro cioè non è solo un simbolo orribile ma poi in pratica veramente ti succhiano il sangue ti succhiano l'anima e tutto quello che sei però a un certo punto la sua vita ha una possibilità ha un'opportunità si apre da questo vortice di violenza succede qualcosa che succede? quando ho stato a strada a Torino dopo sei mesi ho conosciuto il mio marito che parla un po' inglese perché il problema è che tu arrivati qua non riesci a parlare italiano è molto difficile scappare perché nessuno sa il tuo problema perché come diceva Soria Genia ti vedono sulla strada e gli dai fastidio perché ci dà fastidio perché noi siamo quelli buoni quelle nelle nostre belle macchinucce calde e loro sono quelle cattive che fanno le cose cattive e poi scopri e poi ho parlato con Mossino Albeto che è mio marito spiegato il mio problema e lui quando arriva a Rasti ho parlato con Don Gallo di Caritas di Asti con suo amico Piero Veceli loro molto coraggioso di aiutarmi così mi ha invitato Rasti per parlare questo problema prima incontro con Don Gallo Piero Veceli con Mossino Albeto noi abbiamo parlato mi ha chiesto cosa vuoi fare io ho detto voglio scappare quando scappa non voglio scappare lontano voglio aiutare anche altre ragazze che sono strada perché ho visto in questi sei mesi che non sono tutti ragazzi che sanno come Italia cosa devo fare quando arrivarò qua come io così abbiamo parlato dopo due tre mesi abbiamo cominciato la nostra associazione Piamun Luz progetto integrazione accoglienza migranti ad Asti che aiutiamo tante donne io ho la prima donna che è scappata è scappata con altre quattro donne subito non abbiamo accoglienza subito ma abbiamo messo fuori dalla città e poi Don Gallo ha dato noi un ufficio abbiamo cominciato Piamun Luz così dopo qualche mesi Comune di Asti aiuta a dare noi accoglienza che questa accoglienza adesso cerca 11 anni che andiamo accogliere questo donne facciamo unità di strada due volte a settimana del pomeriggio anche di notte e poi in questo punto abbiamo altre persone che è molto interessante di nostro lavoro non solo delle ragazze nigeriane anche ragazze dell'est dell'Europa abbiamo adesso altre accoglienze che un'altra accoglienza con queste ragazze che è uscita anche delle prostituzioni facciamo questo lavoro circa 10 anni adesso abbiamo uscita delle ragazze circa 100 ragazze che è uscita 100 ragazze siete riuscite a salvare 100 ragazze oltretutto voi organizzate dei corsi cioè date la possibilità di rimanere qui e trovare altro quindi ci sono corsi lavoro di Piamonlius prima lavoro facciamo unità di strada per conoscere per mandare le nostre informazioni volontine preservativo accompagnamento sanitario per fare tesi emesti e poi in accoglienza a tutte le ragazze che entrano le nostre ragazze hanno possibilità di andare a scuola così noi facciamo domande per il permesso di soggiorno motivo umanitario per articoli di sciotto che quando loro fanno denuncia di questi trafficanti hanno possibilità di prendere il permesso di soggiorno primo permesso di sei mesi in questo tempo che ragazze aspettano questo permesso mandiamo a fare i corsi scuola per imparare italiani in questo momento abbiamo un corso che si chiama TINATRE finanziamento di regione Piemonte anche collaborazioni con comuni di asti che fanno il corso badante fare unghie parrucchiere anche aiuto cuoco questo funziona bene perché dopo i ragazzi hanno possibilità di avere diploma e poi hanno anche lavoro donne coraggiose che riescono a spezzare una catena e lo fanno per se stesse e per gli altri grazie per averci raccontato la sua stessa grazie